È importante essere qui e io lo dico come sindaco della capitale perché aprire un nuovo pronto soccorso peraltro in un'eccellenza e che si trova alla periferia di Roma, in una periferia che è comunque molto popolosa, è un segnale di speranza e di ripartenza molto importante per cui io non posso che ringraziare e celebrare questo momento con grande entusiasmo. Anche qui si rimette al centro la persona nella duplice veste del paziente che troverà un nuovo polo e ulteriori cure ma si rimette al centro la persona inteso come professionista, il professionista che viene qui ha ulteriori strumenti, peraltro la tecnologia è evidentemente al centro di questo nuovo polo e di questo nuovo pronto soccorso, i professionisti vengono qui e stanno di trovare un'eccellenza. Io sono doppiamente contenta come sindaco e come cittadino. Cerchiamo di continuare lungo questa strada, cerchiamo di trasformare il sentimento di gratitudine che proviamo nei confronti dei nostri medici in azioni concrete. Quindi continuiamo lungo questa strada perché dire la sanità deve tornare al centro significa tornare a investire in un settore che è fondamentale per la nostra vita. Quindi grazie davvero a tutti, congratulazioni per questa apertura di questo nuovo pronto soccorso, buon nuovo inizio. Grazie.